buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa occhio ai giornali questa è fano tv canale 17 sono le 7 del mattino per chi ci segue in diretta e noi siamo qua come di consueto dall'udio al sabato per sfogliare i giornali abbiamo selezionato anche questa mattina le pagine più interessanti a nostro avviso che sono nei giornali che troverete in edicola il santo del giorno lo vediamo subito con il cartello oggi san leonardo di limoges e il sole è sorto alle 6 54 tramonterà alle 16 53 domina ancora l'alta pressione l'anticiclone quindi avremo ancora per questa giornata e queste giornate cielo sereno poco nuvoloso queste tre bimeteo mentre nel dettaglio anzi in un colpo d'occhio vediamo la giornata di oggi domani sabato e domenica con cielo sereno poco nuvoloso attenzione come sempre alle foschie e ai locali banchi di nebbia durante la notte o al primo mattino subito i giornali allora partiamo dal dal resto del carlino e cominciamo con la fotonotizia la fotonotizia su tutte le edizioni delle province è per il provveditore che ha inviato la lettra che il provveditore regionale ha mandato agli studenti in occasione della ricorrenza del 4 novembre lo definiscono un messaggio shock e adesso andremo a vedere perché è stato definito un messaggio shock sia il resto del carlino che come vedete il corriere adriatico tutti e due pubblicano su tutte le edizioni questa questa notizia bufera dopo il messaggio del dg regionale della scuola la chiamata alle armi di filisetti personaggio ai più sconosciuto lo andremo a conoscere meglio attraverso le sue parole intanto torniamo sulla prima pagina del resto del carlino i contagi per quanto riguarda il covid i numeri della resistenza crescita settimanale del 10 per cento in provincia contro il 30 regionale dunque anche qui la situazione nella provincia di peso urbino è assolutamente diversa da quella del resto della regione sta andando molto meglio i contagi per quanto sono aumentati rispetto a qualche settimana fa chiaramente ma sono sempre molto più limitati rispetto al boom di che abbiamo visto in altre in altre province acquaroli dice benissimo l'rt che nelle marche è a 1 e 25 allora i ristoratori intanto apparecchiano in piazza domani c'è un sit in in piazza del popolo a pesaro un'altra manifestazione contro le l'ordinanza di chiusura e poi gli universitari che dal primo anno tornano e potranno tornare alle lezioni stiamo parlando di università appunto in presenza questo invece è il corriere adriatico la fotonotizia abbiamo vista l'apertura marche nord rivoluzione covid questo è il titolo nella riorganizzazione in corso altri reparti vengono trasferiti per ritagliare nuovi posti per gli intensivi case di riposo blitz dell'assessore salta martini nelle marche crescono i ricoveri più 25 altri tre decessi e poi le regole da oggi lo ricordiamo dalla colazione al coprifuoco cosa si può fare nella zona gialla zona gialla nella quale ci troviamo noi della regione marche il coprifuoco chiaramente vale per tutti dalle 22 in poi per il resto vale la regola d'oro che anche se non siamo in zone complicate come quelle della lombardia la regola d'oro è quella di evitare il più possibile contatti con le persone stare in casa ed evitare gli spostamenti soprattutto sui mezzi pubblici e mezzi di trasporto anche se qui non abbiamo le metropolitane non abbiamo tutte queste cose che mettono a rischio e pericolo tutto quanto gli altri per il resto gli studenti sono a casa come abbiamo visto quindi la situazione potremmo gestirla e continuare a gestirla bene ma mantenendo chiaramente le distanze e tutte le precauzioni che già conosciamo allora andiamo a vedere questa lettera andiamo a vedere questa lettera parliamo e cominciamo con questo articolo che pubblica sia il Carlino che il Corriere Adriatico allora intanto Ugo Filisetti ripeto persona che conosciamo oggi per molti per la prima volta è dirigente scolastico regionale delle Marche è il provveditore quindi in occasione della ricorrenza del 4 novembre scorso ha inviato una lettera agli studenti una lettera che ha scatenato una pioggia di critiche un messaggio inviato appunto in occasione di questo 4 novembre che lo ricordiamo 4 novembre ricorda in particolare la vittoria italiana nella prima guerra mondiale e poi la celebrazione delle forze armate dell'unità nazionale ebbene i sindacati subito si sono stracciate le vesti eppure dicono ricopre un ruolo di grande responsabilità educativa lui si difende dice volevo solo ricordare il sacrificio di quei soldati non credo di aver utilizzato parole sbagliate allora andiamo a vedere così anche voi potrete dare un giudizio che cosa ha scritto di così scandaloso allora dicevo in questo giorno scrive Filisetti il nostro reverente pensiero va a tutti i figli d'Italia che dettero la loro vita per la patria una gioventù che andò al fronte e la vi rimase una gioventù lontana dai prudenti dai pavidi coloro che scendono in strada a cose fatte per dire io c'ero giovani che vollero essere altro non con le declamazioni ma con le opere con l'esempio consapevoli che un uomo è vero uomo se è martire delle sue idee non solo le confesse le professa ma le attesta le prova e le realizza combatterono per dare un senso alla vita la vita di tutti comunque essi la pensino per questo quello che siamo e saremo lo dobbiamo anche a loro e per questo ricordando i loro nomi sentiamo rispondere come nelle trincee della grande guerra all'appello serale del comandante presente questa è la lettera che ha scandalizzato non si capisce per quale ragione è vero che c'è una frase di gentile che è un po' vicino al fascismo ma insomma dice giustamente Filisetti era anche un premio nobel quindi voglio dire comunque il suo intento era quello di commentare non giudicare sul conflitto condotto bene o male poi è chiaro che la guerra è la guerra la guerra produce solo morte e su questo come dice anche la nostra costituzione dobbiamo fare di tutto per per evitarla il problema secondo a mio modesto parere è che chiaramente ha sbagliato indirizzo i giovani di oggi la maggior parte dei giovani hanno hanno poco interesse rispetto alla storia alla guerra la prima seconda guerra guerra mondiale anche perché fondamentalmente i nostri giovani hanno tutto quindi non hanno cose da conquistare non hanno grandi ecco al massimo la guerra la giocano sulla playstation insomma più di più di lì non non vanno però ecco poi giudicato ognuno può giudicare io ve l'ho letta quindi ognuno può dare un suo giudizio ma mi pare che insomma non ci sia ci sia più la voglia di fare polemica in un momento dove anzi voglio dire le cose di cui pensare ne abbiamo tante queste sinceramente potremmo farne a meno però i giornali ci sono andati a nozze e quindi pur di buttare un po di fuoco e di far polemica però questo è un altro discorso quindi anche il corriere adriati come vedete addirittura gli ha fatto la pergamena quindi insomma tutto bellino ecco questa è una lettera shock per il del direttore generale agli studenti ragazzi ispiratevi a chi andò al fronte bufera sul capo dell'ufficio scolastico per le parole forti sulla commemorazione dei caduti ok acquaroli invece covid rta 1,25 va benissimo dice lui quindi insomma ci crediamo giorni decisivi per appiattire la curva ecco quindi insomma siamo già a buon a buon punto stando alle parole virgolettate del governatore delle Marche giorni decisivi per appiattire la curva il governatore pensa positivo dopo gli ultimi dati epidemiologici situazione sotto controllo c'è questa nuova ordinanza che prevede il ritorno degli universitari quelli del primo anno direttamente in presenza quindi in aula per il primo anno delle università e poi chiaramente si spinge molto sul lavoro sul lavoro da casa quindi lo smart working come si dice ma in questo caso ecco bello leggere lavoro da casa si capisce molto meglio hotel per le quarantene sul tavolo ci sono 13 offerte sono le strutture alberghiere della regione per un totale di 620 posti allora i contagi siamo sulla pagina di pesero del carlino qui salgono solo del 10 per cento vedete quello che vi dico ormai da giorni e giorni ovvero che nella provincia di pesero comunque la situazione fondamentalmente non è poi così preoccupante e le terapie intensive che sono occupate in questo momento anche a Marche Nord sono di persone che arrivano dal sud delle Marche in particolare da Macerata e giù di lì dunque i dati elaborati dalla fondazione Gimbe disegnano i contorni delle Marche a più velocità e da noi la tendenza è ancora accettabile intanto via al nuovo piano sanitario si apre la partita degli ospedali e questa è un'altra notizia sul quale sulla quale ci torneremo anche magari nel corso del telegiornale di questa sera perché si riapre la partita degli ospedali quindi la riorganizzazione della sanità marchigiana che è una delle più urgenti priorità anche in considerazione del nuovo scenario derivante dall'emergenza parole del governatore acquaroli che apre dunque la partita del piano sanitario e dei nuovi ospedali insieme alla giunta e in attuazione del programma di governo avviamo il percorso per la redazione del nuovo piano regionale socio sanitario 2021-2023 di nuovo sul carino ok zona gialla ma anche noi subiremo danni Moreno Bordoni della CNA dice il limite degli spostamenti comunque avrà delle conseguenze bene che siano rimasti aperti gli estetisti e i parrucchieri intanto da oggi chiudono i musei e le biblioteche case di riposo il blitz di salta martini l'assessore regionale alla sanità vado di persona dice lui tavolo permanente nuovi focolai l'assessore bussa sorpresa in due strutture per anziani e avvia riunioni quotidiane chieste indagini sui tamponi dipendenti e tablet per gli ospiti favorire il contatto con le famiglie e questa invece la pagina del carlino e abbiamo già chiuso quella del covid come vedete molto velocemente anche questa mattina abbiamo selezionato le notizie più interessanti ma soprattutto quelle più utili allora qui andiamo a colli al metauro siamo sempre in provincia di peso urbino c'è un processo in corso al tribunale di pesero per un settantaquattrenne che avrebbe baciato sul collo contro ovviamente la sua volontà altrimenti non erano in tribunale una una donna una sua inquilina madre di cinque figli alla quale avrebbe detto voglio fare l'amore con te il fatto è successo a colli al metauro poi quindi elisabetta rossi questa mattina racconta questa vicenda questa questa sentenza in tribunale questo uomo è stato condannato a due a due anni andiamo invece adesso sull'altra pagina ecco questa è la cronaca invece di questi giorni è stato aggredito alle spalle da due ragazzi è sbattuto a terra per il portafoglio paura ieri mattina in viale trieste a pesero per un un uomo un anziano di 85 anni che è stato assalito e rapinato mentre stava passeggiando da due ragazzini lo hanno scaraventato a terra praticamente rapinato del portafogli sul posto è andata la squadra mobile di pesero è successo ieri mattina intorno alle 8 e 30 in viale trieste mentre la foto vedete qui scattata qualche qualche in tempi non sospetti o comunque prima del covid vedete matteo ricci e vittorio sgarbi ora i loro rapporti sono un po più tesi ieri c'è stato uno scambio di video sui social tra il sindaco che ha cominciato per primo e poi vittorio sgarbi ha chiuso poi di nuovo nella serata un altro video un secondo video di matteo ricci che abbiamo fatto vedere anche noi nel telegiornale tutto questo perché perché vittorio sgarbi teoricamente oggi dovrebbe essere a cena dal ristoratore pesarese che ha protestato e che è finito su tutte le reti nazionali e allora quel carriera di cui vi abbiamo parlato insomma anche noi qualche qualche giorno fa chiaramente sgarbi sta dalla parte di carriera quindi andrà con lui sgarbi è per riaprire riaprire tutto soprattutto i ristoranti e invece ricci dalla dalla sua parte dalla parte del sindaco dice qui a pesaro le leggi vanno rispettate e quindi c'è tutta la bagarre e la sceneggiata se vogliamo perché a sto punto a proposito di buffonate però insomma anche tutte queste cose da allora gettato a terra e rapinato in pieno giorno anche qui il resto del carlino mi ha dato una spinta dice lui e mi ha sfilato il borsellino ma una ragazza lo ha visto adesso bisogna vedere se si riuscirà a rintracciare un giovane sorpreso invece dai carabinieri mentre confeziona le dosi di droga qui siamo a senigallia in bagno nel garage trovati ecstasy che tamina e ascisce i sospetti per il via e vai via vai della sua abitazione poi ci sono chiaramente gli inquilini che fanno giustamente il loro dovere e quindi avvisano le forze dell'ordine soggiorno a scrocco in hotel scompare dopo aver alloggiato per un mese e mezzo no scusate per un mese a mezza pensione sul lungomare leghieri dunque è successo in un lungomare in un albergo del lungomare di senigallia questo scroccone aveva già soggiornato una settimana tra fine settembre agli inizi di ottobre pagando con la carta di credito quando è tornato quindi non ha destato alcun sospetto anche perché giustamente l'albergatore dice questo ha già pagato è tutto regolare quindi nessun problema ieri però il titolare della struttura si è recato in commissariato per sporgere denuncia contro questo scroccone che è un uomo calvo di circa 40 anni paffuto sempre in jeans con felpa e si tratta di un uomo che fa truffe sulla vendita online di giochi elettronici anche su amazon domani i ristoratori invece ci apparecchiano in piazza sit in nel pomeriggio con tanto di tavolini piatti e bicchieri farci chiudere alle 18 dicono loro significa decretare la morte di tanti locali anche qui ci si spacca un po in due l'opinione pubblica è un po divisa in due tra chi sostiene che al ristorante tutto sommato se vengono rispettate le distanze è difficile contagiarsi gli altri che invece dicono no evitare ogni tipo di socializzazione più o meno anche nei ristoranti quindi la situazione va assolutamente tenuta sotto controllo intanto carriera di cui vi parlavo poco fa fa ricorso contro la chiusura del suo ristorante sgarbia cena qui ricci attacca noi rispettiamo le regole dice dice appunto il sindaco di pesaro carriera che annuncia di aver fatto ricorso al presidente della repubblica niente meno per chiedere l'annullamento del provvedimento del questore di pesaro che ha sospeso la licenza della macelleria per 15 giorni ha chiesto anche l'annullamento del dpcm del 24 ottobre 2020 carriera poi eccepito la falsa applicazione dell'articolo 100 del testo unico di pubblica sicurezza e ha chiesto il risarcimento dei danni economici e di immagine adesso andiamo e qui guardate che bella questa foto che ci ricorda il natale dell'anno scorso ecco natale dell'anno scorso quando in tanti tantissimi eravamo in piazza 20 settembre per assistere alla all'accensione dell'albero di natale allora intanto l'albero è salvo quindi possiamo dire che in piazza 20 settembre quest'anno l'albero verrà acceso però ovviamente ci sono regole come titolo vedete il carlino regole severe che vanno rispettate ovviamente quindi ci sarà sì l'albero però un programma che chiaramente sarà adattato alla situazione odierna e quindi insomma anche su sugli orari l'apertura pomeridiana che potrebbe essere dalle 15 alle 19 invece che dalle 16 alle 20 insomma tutta una serie di proposte sulle quali adesso si sta lavorando in un tavolo tecnico che è stato aperto anche dall'assessore al turismo del comune di Fano Etienne Lucarelli che adesso dovrà prendere forma chiaramente ancora siamo in fase embrionale ma comunque dice l'assessore vogliamo comunicare l'immagine di una città sicura e accogliente ovviamente ci sarà anche la diretta di Fano TV vi faremo vedere l'accensione tutto quello che sarà possibile trasmettervi anche a livello emozionale ma insomma quello che si può fare lo faremo per il resto bisognerà lavorare anche un po' di fantasia intanto le biblioteche si attrezzano contro il covid per assicurare il prestito dei libri l'assessorato si sta organizzando per portare il servizio nei quartieri cittadini ecco tutte le novità la pagina di Fano del Corriere Adriatico regaleranno i loro terreni al comune per realizzare la ciclovia di Metauriglia sono 40 residenti che hanno lanciato la loro proposta in cambio chiedono un'esecuzione però rapida allora 40 proprietari sono pronti a regalare al comune di Fano un nastro del loro terreno Metauriglia per realizzare il tratto locale della ciclovia Adriatica chiedono però in cambio che l'ente metta mano al progetto e soprattutto sia veloce creare dunque un percorso riservato alla mobilità leggera di ciclisti e pedoni alternativo alla trafficata e pericolosa statale 16 che è diventata a questo punto un'esigenza avvertita ormai come indifferibile dagli abitanti della frazione subito a sud del fiume Metauro beh, bel gesto, davvero complimenti poi salvaguardate l'incolumità delle persone si alza a fenile la protesta per una situazione viaria da troppi anni insostenibile questa invece la pagina di Pesore Provincia dove la nuova interquartieri di Muraglia corre un rischio il rischio è per l'acquedotto romano il consigliere regionale Rossi ha scritto alla sovrintendenza perché venga fatta chiarezza su questa nuova bretella di Muraglia che potrebbe compromettere l'acquedotto romano mentre a Baia Flaminia ha allestito il cantiere per la realizzazione della rotatoria sequestrati oltre 700 capi di abbigliamento contraffatti ispezione della Guardia di Finanza al mercato di Pesaro del San Decenzio e nella Casa Magazzino il Comune, sempre a Pesaro, cerca un gestore per la Baia impianti sportivi, un bando da 9 milioni di euro l'affidamento del complesso avrà una durata di 15 anni le buste si apriranno il prossimo 18 novembre e poi l'altra notizia che invece arriva da Monbaroccio e qui parliamo della Casa di Riposo la RSA Bricciotti che è stata chiusa a seguito di quelle cripe di cui vi abbiamo parlato problemi quindi di stabilità tempi certi per la Bricciotti il titolo lo richiede pure l'emergenza e c'è un'interrogazione del consigliere regionale Biancani c'è fame di posti nelle strutture insieme alla collega Vitri abbiamo chiesto ad Acquaroli un piano di recupero straordinario mentre a Vallefoglia nuove illuminazioni delle piazze nelle piazze e nei parchi sono in corso di esecuzione i lavori di realizzazione e manutenzione degli impianti Urbino, il teatro romano ancora off limits Gall Montefeltro finanzi il recupero l'architetto Alessandrini risponde alle liste Londè servono 117 mila euro per completare lo scavo Sergio Guerra ha lasciato i suoi 400 libri all'Ateneo il docente universitario e musicista deceduto prematuramente per Covid ha lasciato appunto tutti questi 400 libri all'Ateneo, all'università Gambini invece, questo è il Carlino quante strade dobbiamo rifare? il sindaco ha in programma almeno 25 chilometri di asfalti nelle campagne mentre in centro al Via nuovi lavori al mercatale questa l'intervista sarà rifatta per intero dal mulino a Lavagine con il selciato originale parliamo di Via delle Mura mentre su Fossombrone il Corriere Adriatico il titolo Trasferimento della Farmacia Comunale il Consiglio di Stato invalida la determina la delibera risale al luglio del 2018 ed ha permesso all'esercizio di lasciare la sede di Corso Garibaldi più che di sviamento appare corretto parlare di violazione delle previsioni normative Aguati alla giovane inquilina è condannata a due anni l'uomo di 74 anni accusato di violenza sessuale sull'affittuaria che aveva qualche mese d'affitto arretrato e quindi era morosa e questa è invece la pagina della Val Cesano statale 424 dopo decenni d'attesa l'apertura al traffico adesso è vicina sopra il luogo del sindaco dell'Onti di San Lorenzo in campo collaudati statici scusate collaudi statici e amministrativi poi nulla osta per il transito ora lavoriamo con l'ufficio tecnico comunale per la ciclovia di Via Bagnara poi consegna a domicilio da Mondolfo e assistenza per tutte quelle persone che sono in quarantena che hanno bisogno di fare la spesa non possono uscire di casa sono soli, non hanno i figli oppure c'è gli hanno che lavorano e quindi non possono fare diversamente allora il Comune di Mondolfo molto sapientemente ha attivato di nuovo subito un numero di telefono ve lo do allora l'amministrazione comunale di Mondolfo questo è il numero di telefono chi ci segue da Mondolfo e ha bisogno di assistenza ha bisogno, non so, di avere appunto di fare la spesa qualunque cosa abbiate bisogno chiaramente non i soldi 338-67-50-743 va bene? 338-67-50-743 questo è il numero di telefono fategli una foto al televisore se avete un cellulare a portare di mano è il numero da chiamare per il Comune di Mondolfo solo il Comune di Mondolfo per avere appunto questo aiuto da parte dei volontari della protezione civile a Senigallia abbiamo detto ci sono i lavori per la costruzione del nuovo ponte il ponte cosiddetto 2 giugno ma lì come si scava e poi chiaramente essendo vicino un ponte i ponti erano quelli che insieme ai campanili e tutto il resto venivano fatti saltare in tempo di guerra e allora adesso che si scava se ne trovano tanti di questi residuati bellici e quindi passato questo ponte ai raggi X per scovare eventuali altre bombe intanto mi pare che non lo trovate già a Senigallia 11 o 12 nuovi accertamenti sì 11 dopo gli ordigni ritrovati già accumulato quasi un mese di ritardo intanto l'ipotesi pensiamo di aprirlo a pedoni e macchine il sindaco dice la nuova infrastruttura si può adattare in base alle esigenze delle giornate e anche delle stagioni sempre da Senigallia questa volta il Carlino in un garage la suburra dello spaccio arrestato un 21enne nel covo aveva droghe droga bustine coltelli e chetamina carabinieri insospettiti dal via vai via vai nell'appartamento nel condominio la pistola invece per uso sportivo è stata presa da un'abitazione di Iesi trasferito in carcere il 19enne arrestato a Marzocca con un'arma da sparo e un macete nascosto in casa è stata rinvenuta dietro ad una lavatrice cosa doveva farci? I carabinieri hanno anche trovato della droga in una scatola intanto come dicevamo le bombe dei tedeschi per far saltare il ponte ritrovamento di 12 ordigni nel lavoro in centro la ditta che le recupera dice furono posizionate per coprire la fuga non hanno fatto a tempo però ad esplodere intanto lo sport velocemente la VIS può fare di più e ha pagato Galderisi l'allenatore che è stato che è stato cacciato dalla società esonerato il DS Crespini torna sull'esonero del mister pochi punti il gioco così così sicuramente dobbiamo ritrovare quella serenità che c'era in precampionato e poi il Fano c'è subito un tabù da sfatare il Sutirol è un'autentica bestia nera sia per il Fano che per il nuovo allenatore destro nell'anticipo di domani ci vorrà una prestazione super per battere gli ambiziosi Alto Tesini intanto niente acquisti per il Fano titolo del Carlino deve fare tutto da solo la società rimanda ogni operazione di mercato a gennaio destro chiede alla squadra un segnale forte domani alle ore 15 appunto con il Sutirol il nuovo tecnico che dice la classifica è brutta bisogna invertire la tendenza mai una vittoria con gli Alto Tesini quindi insomma come dire si mettono le mani avanti sarà un po' dura intanto Valentino Rossi che è negativo la testa l'ultimo test covid quindi vola in Spagna un altro test potrà correre Valentino ci prova e prova a battere anche il coronavirus dopo lo stop alla partenza per Valencia per la positività al tampone fatto martedì al controllo di ieri Rossi è risultato negativo e nella tarda serata si è imbarcato in fretta per la Spagna ora l'obiettivo è quello di tornare in pista domani per le qualifiche e domenica in gara ma prima serve ancora il via libera dello staff medico del circuito che oggi sottoporrà Vale ad un nuovo test ok allora con questa notizia chiudiamo qui il nostro appuntamento con l'informazione di prima mattina l'informazione con la lettura dei giornali e allora ci vediamo stasera per il telegiornale delle 20 e 30 occhio alla notizia grazie per averci seguito a voi tutti l'augurio di una buona giornata arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.